C'è mai! Spongebob, c'è mai! No! Non mi toccare, Shai! Sì! Ladadì, ladadì. Che l'hai? Che l'hai? Che l'hai? Che l'hai? Sta lontano! No! Forza, sei quasi arrivato! No, no! Ti prego, non farlo! Sono troppo giovane! No, 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 no! Sì, 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 sì! Ce l'hai? Eh, va bene, adesso basta! Beh, che avete? Buongiorno! Aspetta, hai qualcosa sulla testa! Aio! Fuori di qui! Ecco, qui dentro non vi voglio! Non possiamo stare fuori, c'è il fango! E poi... Il cielo sta piangendo! Prendete! No, grazie! Senti, ce l'hai? 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 Ehi, stupidotti! Vi prenderete un raffreddore qua fuori. Dai, venite dentro! Meglio non giocare con lui. Gli atleti di solito giocano duro. Bravi, ora per prima cosa asciugatevi. Molto bene, riprendiamo. Dove eravamo rimasti? Scusa, Larry, che cosa stai facendo? Sto cercando di insegnare a queste teste di legno che il cervello è il muscolo più importante del corpo. Il cervello non è un muscolo, è un organo. Oggi ci esercitiamo a sviluppare il nostro intelletto. Nella classica filastrocca Jack si agile, Jack si veloce. Sopra cosa salta esattamente, Jack? Sopra la sua mamma? Una piattaforma petrolifera? Eh, me? Ce l'hai? Ce l'hai? Ce l'hai? Ce l'hai? Ah, presa! Ce l'hai! Che state facendo? Zucchiamo a ce l'hai. Jack, sei più agile! Oh, è la guerra che volete, eh? Carica! Oh, aspetta! Ascoltami! Fatemi un favore, voi tre! Non tornate mai più! Tu e i tuoi amici giocate troppo duro! Ah! 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 Oh, è tipo... Ah! 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 ailleurs, الش mistakes… Grazie a tutti.